Università degli Studi del Sagno è in crescita grazie al rettore galantuomo Filippo De Rossi. La pensano così gli studenti, il cui portavoce Gabriele Uva, che spende parole di elogio nei confronti del vertice dell'Ateneo che ha saputo mettere al centro gli studenti. A lui la stretta di mano delle nuove generazioni, in segno di gratitudine. Open day all'Università degli Studi del Sagno, un'università tra presente e passato e soprattutto futuro. Un'università che sulla scorta del suo passato si propone di realizzare un futuro migliore partendo dalle proprie eccellenze, dall'ingegneria del software che è decima in Italia e prima in Europa, dall'unico corso nel mezzogiorno per quanto riguarda diritto ed economia che consente a chi frequenterà questo corso di ottenere due titoli di studio, un'economia in giurisprudenza. Insomma ci prepariamo alle sfide per il futuro nella migliore maniera possibile. So che il rettore Filippo De Rossi è in scadenza. Certo, il rettore scade, finisce il mandato dei sei anni, come sappiamo per la legge Gelmini non può rinnovarsi. L'augurio mio e degli studenti che in parte anche parteciperemo al voto per il nuovo rettore è quello di avere un rettore moderato, capace di avere rapporti con le istituzioni, capace di rappresentare questa università, capace di avere una visione di futuro ma soprattutto di realizzarla. Che rettore è stato Filippo De Rossi, è ancora Filippo De Rossi? Un galantuomo, un galantuomo che ha messo a centro l'università, che ha messo a centro gli interessi degli studenti, sempre e comunque. Che università degli studi del Sagno sarà? Sarà un'università degli studi del Sagno maggiormente, come dire, in forza, maggiormente competitiva sul piano meridionale, sul piano nazionale, sul piano europeo, insomma un'università del Sagno in crescita. Grazie. 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 Grazie.